Oggi vi faccio vedere come creare delle fototessere utilizzando solo il vostro iPhone. Lo faremo con un'applicazione disponibile gratuitamente in App Store sviluppata proprio per questo che può essere utilizzata in maniera gratuita con delle limitazioni oppure che può essere sbloccata eliminando la pubblicità e aggiungendo altri formati di stampa. Utilizzarle è veramente molto semplice. La prima cosa che dovete fare sarà andare in App Store e cercare l'applicazione La Fototessera e una volta scaricata il gioco è praticamente fatto. Avviata l'applicazione dovete concederle tutti i permissi necessari per funzionare al meglio e a questo punto non vi resta che decidere di creare una fototessera. Per farlo dovete scegliere l'apposita voce. Al momento della creazione della fototessera verrà visualizzato un elenco di nazioni proprio per essere compatibile con gli standard che ci sono in ogni nazione e il gioco è fatto. Quando state per scattare la foto a schermo verrà visualizzata una guida che dovrete seguire per avere l'inquadratura perfetta e una volta scattata la foto non vi resta che decidere il formato di stampa. Creata la fototessera a questo punto le opzioni sono diverse. Potrete salvarla sul vostro lino fotografico oppure potete inviarla via mail in formato zip in modo tale magari da inviarla a un fotografo per la stampa e avere quindi la vostra fototessera. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di TechFanPage.